Nella piazzetta Matteotti, caratterizzata dal basolato pavimentale con pietra calcarea dura, è presente quello che un tempo era il bellissimo convento dei frati Domenicani. L'intero complesso conventuale venne costruito nella prima metà del 1600 e subì rimaneggiamenti piuttosto importanti nel corso del tempo. Il piano superiore venne completamente riedificato per ospitare l'ampia aula consigliare. Ciò che ancora conserva la sua originaria bellezza è una parte del chiostro. Esso ha una pianta quadrangolare e delle solenni colonne che immettono nell'ampio scalone. La chiesa del Rosario, attigua al convento, risale al 1652. L'interno è a tre navate con volte a botte ribassate. Qui è possibile ammirare tre altari per lato, tutti di pregevole fattura e impreziositi con dipinti e statue. L'altare maggiore è in marmo policromo ed è sovrastato dalla tela della pietà realizzata ad Alessandro Fracanzano, figlio del più celebre pittore Cesare Fracanzano.